Buonasera, qual è la cosa che farai più fatica a digerire di questa partita? Sicuramente il risultato, il risultato per me è venuto, loro hanno fatto poco per me, hanno avuto due occasioni, qualcuna creata da noi e hanno avuto il massimo, due gol, noi abbiamo creato forse un po' di più.